Sempre più in alto. Il torneo Salento in cima alla Coccagna ha riscosso anche in questa terza edizione un grande successo di pubblico. Del 2 aprile ha fatto tappa a Monteroni con le Passo e Cocumola ed è qui che questo sabato si è tenuto l'appuntamento finale con ospiti d'onore i Rosen Garden, squadra che ha conquistato quest'anno il Guinness World Record. Siamo veramente felici di partecipare qui dopo aver vinto anche il Guinness World Record come squadra Rosen Garden. È stata un'emozione incredibile poter portare il nostro sport addirittura a Meida, Settacolonia, Monzese. Siamo sulla cresta dell'onda, possiamo dire così, perché continuiamo a portare a casa grosse vittorie, merito dei miei compagni che danno sempre meglio di sé ogni volta che gareggiamo. Organizzato dall'Associazione Madonna di San Fili di Monteroni, in collaborazione con le associazioni Rioni Colle Passesi e Genitori Insieme di Cocumola, l'iniziativa è destinata a crescere, come confermano le adesioni in aumento di anno in anno, dai piccoli sfidanti ai veterani, dagli amatori ai veri e propri professionisti. Ecco perché, chiusa l'edizione 2024, gli occhi sono già puntati alla sfida del prossimo anno. Il 2024 è andato benissimo, in modo direi straordinario. Vorremmo che, grazie all'aiuto dell'Associazione Italiana Palo della Cuccagna, che ci sta dando un grande aiuto, si potesse realizzare un vero e proprio campionato e ci stiamo lavorando. Si parte subito perché abbiamo già programmato degli incontri nei prossimi giorni per programmare la quarta edizione Salento Cima alla Cuccagna, perché abbiamo anche altre richieste di paesi che vogliono aggregarsi a questa bellissima manifestazione. Arrivati! 47 e 18. 48 e 18.